Qui Skywalker, posizione è pronta da aiutare. La Repubblica suona la carica, ragazzi! Ci sono dei turbolaser vicino alla nave nucleo. Potrei mandare degli artiglieri per usarli, se qualcuno aprisse loro usarli. Tocca a voi, soldati! Ai nostri artiglieri serve un'area di aterrazzo! Entra, combattiamo! Gente pronta! Ti arrendi o no? Ci hai pensato abbastanza. Qui trovo un po' di mezzo. No! Altri rifiuti per il combattatore. I separatisti stanno levando le tende. Le nostre forze sono in potenza. In difesa, soldati, arrivano i nostri! I separatisti stanno levando le tende. I separatisti stanno levando le tende. I separatisti stanno levando. Oh Cannoni pronti Chiamate gli arpiglieri Presto quella nave nucleo sarà una pila di rottami fumanti Stanno atterrando Continuate a presidiare l'area Non capita tutti i giorni di fermare un esercito e distruggere una fabbrica di droghi Notevole Artiglieri, fuoco appena pronti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti